Perché c'è un po' una questione ancora irrisolta, ovvero il famoso difensore caro Michele, perché ricadato dell'Inter che sembrava già quasi fatto, finito e già impacchettato, però poi si fa male Bucanan, che succede? Che Carlos Augusto viene considerato a questo punto il vice di Marco al posto di Bucanan, ma si crea ovviamente il tassello vuoto come vice bastoni. E allora abbiamo detto in questi giorni il nome è quello di Ermoso, però oggi poi spunta un Riccardo Rodriguez dal Torino. Il low cost, c'è sempre il low cost. Si lavora, però Auxilio è stato chiaro, piede mancino, difensore, Carlos Augusto come hai spiegato tu come alternativa a Di Marco, e quindi Ermoso secondo me, cioè quando tu fai un quadro del genere. Però è Oc3 che non ci sente molto su Ermoso. Evidentemente l'investimento, perché loro pensano. Non è neanche questione di investimento, perché ha zero. No, l'investimento totale, cioè ingaggio lordo, più commissione. 4 per 4? Eh, va anche 3, però lui addirittura all'inizio parte da 5, però finora il Napoli gli ha offerto 3,5, quindi secondo me non è che ci sono mille adesso, altre altre, a meno che non voglia andare pure lui in Arabia. C'è un'Arabia per tutti. C'è un'Arabia per tutti. Lui ha sempre detto di preferire e aspettare un po' anche un'offerta dalla Premier, che però al momento non c'è. Allora voglio dire, cioè se tu vedi l'Inter e vuoi quel ruolo, quel tipo di giocatore, è perfetto. Ma anche perché Acerbi e De Vrij, De Vrij ha detto anche adesso dall'Europeo che vuol rimanere come ha fatto Cianoglu, quindi quest'anno l'Inter non si muove al centro. Però ha Iacerbi che va, dopo un'operazione per risolvere la pubalgia, andrà durante l'anno a fare 37 anni. De Vrij è vero che sta giocando bene, ma anche lui ha 32 anni, quindi con Bastoni e Ermoso avresti due sicurezze, oltre a essere due cotitolari per il ruolo di centro-sinistra, anche uno che può scalare all'occorrenza al centro, soprattutto Bastoni. Io ho sentito parlare di Rodriguez più che di Ermoso, sinceramente. No, allora parlare, si è parlato di tutto, però diciamo le notizie che ci risultano è che Ermoso, siccome il Napoli sta un po' frenando perché deve ancora cedere, poi Emanuele magari ci conferma, è che comunque Ermoso all'Inter andrebbe anche domani. Però è l'Inter che in questo momento non sta affondando perché vuole cercare di mettere tutte le componenti, diciamo così, compresa la proprietà, al corrente, che sia un investimento virtuoso. Per me è virtuoso, perché Rodriguez oggi ti fa risparmiare perché paghi poco, però alla lunga Rodriguez poi è una toppa, non è di più. Il mio punto è che Oktri non vuole, o meglio, quello che sembra aver fatto passare dopo aver già preso Zilinski e Taremi, non vuole un altro investimento. E Martínez anche. No, però è un altro investimento. Un altro investimento che dici tu, per un giocatore che nel corso del suo contratto arriverà a non essere rivendibile a cifre molto più alte. Però Emanuele, anche questo è un contesto. Quindi sostanzialmente ci stanno dicendo che un giocatore, che Ermoso ha 29 anni, un giocatore che va per... Fai un triennale e ne avrà 32. Un trentenne, anche se è gratis, ma con quello stipendio, non è nei progetti di questo fondo. La dirigenza sta provando a far capire alla società che, ok, i trentenni di questo tipo non sono nel progetto per te, però se devo prendere un 25enne devo pagarlo. Quindi o risparmio sul cartellino e ti prendo il trentenne pagandogli solo l'ingaggio, o mi dai i soldi per comprare il ragazzino, magari l'ingaggio lo tengo più basso. Rodriguez, età? Infatti a 32 tra un mese. Infatti Riccardo Rodriguez per me non è neanche un nome da mettere su sto tavolo, però... Ma infatti, ma io... È un'ipotesi, io ho sentito... Sì, ma probabilmente è un'ipotesi messa in giro dal suo agente più che dall'Inter. Ma sono venute fuori mille ipotesi, tutti, perché una volta che l'Identikit è stato, non vi diciamo i nomi, ma è Mancino, allora tutti i Mancini sono stati accostati all'Inter. Infatti, forse quello paradossalmente più percorribile, se non è ermoso... Mi meraviglio come mai Marotta. Kivior. Però l'Arsenal lì non lo vuole dare in prestito ad oggi. Solo se l'Arsenal lo dà in prestito. Perché l'alternativa che hanno provato a dire a Osilio e Marotta a Autri è io Kivior lo posso prendere, devo dare 20 milioni all'Arsenal. L'ingaggio è che passo di quello di Ermoso e decidete voi. Sei d'accordo, Emanuele, chiedo anche agli altri. Se no e no, non si prende nessuno. Almeno io ho elogiato la nuova proprietà perché arrivati hanno fatto una cosa molto intelligente. Non hanno voluto entrare come un elefante in cristalleria. Hanno detto questo, stiamo rilevando una squadra che funziona. Dal punto di vista dei conti sta migliorando i conti. Lasciamoli lavorare, anzi Marotta... Passivo che però sta andando a pareggio di bilancio gradualmente è il presidente Marotta che era il CEO Sport. Quindi anche un ruolo ancora più di prestigio. Adesso se ti dicono l'area tecnica che sta operando bene, che quello è un tassello... Cioè i Michitalian, gli Acerbi e i Darmian hanno portato anche loro l'aumento dei ricavi e l'abbassamento del deficit. E ripeto, lì l'Inter deve per forza ringiovanire con Acerbi e De Vrai. Quindi Ermoso è una casella strategica se lo prendi a De. È un'occasione incredibile. Cioè a te manca quel tipo di ruolo a... Anzi, secondo me, vi dirò di più. Secondo me, Ausilio ha detto che vuole il difensore e non l'esterno. Proprio perché c'è Ermoso. E quindi è quella l'intenzione dell'Inter. Sai cos'è la differenza? Che prendere Ermoso senza che ti si rompe Buchanan o se non hai comprato Buchanan è un conto. Prenderlo come tappabuchi è un altro. Cioè tu comunque Buchanan tornerà. E l'anno prossimo comunque avrai anche Carlos Augusto che sta dietro. Però Buchanan può andare nella casella di Darmian a destra nel suo ruolo naturale. Perché Darmian inizia l'anno prossimo a più di 35 anni. È una cosa che stiamo dicendo da quando è arrivato. Io a destra non l'ho mai visto neanche allenato. Però Ainsaghi, quando abbiamo fatto questa domanda, ha detto che c'era la folla a destra. Perché c'era Dunfriss, Darmian, Quadrado che era tornato all'infortunio, Pavar che si poteva adattare. L'ho provato a sinistra. Tra l'altro a sinistra gli piaceva il fatto che rientrasse in mezzo al campo per andare sul destro e ha insistito lì. Adesso Buchanan, tra l'altro, giocava a destra col Canada. Poi si è fatto male in allenamento. Da esterno alto però. Da esterno alto in un 4-4-2. Però ripeto, secondo me, mettere vicini, accostare, tutti i nomi che stanno venendo fuori. da Vasquez del Genoa, il ritorno di Pirola, Medina del Lanz. È ermoso, a parametro zero, come dice Emanuele. Il costo non è il cartellino. Il costo è tutto, il totale tra cartellino e risparmi. Poi c'è la parte dell'ingaggio lordo dove qualcosa in più la vai a mettere. Ma se va al Napoli, io posso capire se arriva il Liverpool, il Real Madrid, ma se il Napoli offre 3,5 e alla fine va a 3,5 e l'Inter non lo prende a 4-4,5, è un'occasione persa. Elena? Penso anch'io che può essere un'occasione persa per l'Inter, ma non credo che Marotta se lascerà scappare per il semplice fatto che lui è bravissimo con i colpi a parametro zero. Esatto. Quindi è la sua specialità. Penso che Marotta prenderà questo giocatore. È il nuovo Condor. Tra l'altro lo toglie anche al Napoli, perché il Napoli va a finire che è ermoso, non avendo altre offerte fa come Di Bala che alla fine si è, tra virgolette, accontentato della Roma. E in quella difesa del Napoli, avere Quangesusso, avere Ermoso, cambia un po' se devi impostare con la difesa. La seconda parte del nostro titolo invece parla di un bonus scudetto per Inzaghi, perché si va verso questo rinnovo fino al 2026, giusto? Sì. Con l'inserimento di un bonus scudetto che in tanti, come dire, un po' per scaravanzia, un po' per reale convinzione, vedono più o meno già nelle tasche di Inzaghi. Un bonus facile, molto facile. I bonus facili da raggiungere. Facili, infatti i bonus sono così. Facili e impossibili. Facili è quello il raggiungimento della Champions League, per l'Inter il raggiungimento dello scudetto. Siccome sanno che Marotta quest'anno, avendo anche il ruolo da presidente, non può stare dietro a Inzaghi come ha fatto quest'anno per dirgli guarda che dobbiamo vincere lo scudetto, guarda che dobbiamo vincere lo scudetto, perché c'è la seconda stella, eccetera, eccetera, hanno paura che Inzaghi faccia i passi indietro che ha fatto i due anni prima e quindi ha detto ti metto il bonus così magari sei motivato a far da solo. No, io la vedo però anche un bastone carota nella trattativa, perché i contratti erano tutti 2027 alla dirigenza e Inzaghi dice da stavolta la spada di Damocle me la son tolta, ho vinto lo scudetto, 2027 anch'io, non sempre di un anno alla volta. E invece gli dicono di no. Il bonus difficile sai qual è? E invece gli dico di no Paolo. La Champions. No, capito, però perché poi il bonus è alto? Perché gli dicono di no al 2027, allora dall'altra parte su qualcosa devi cedere, e allora gli dai qualcosa in più di ingaggio, quindi l'aumento... Anche perché sarebbe il quinto anno, l'ultimo, il 2026, quindi... Sì, ma il 2026 diventa 27 se quest'anno va bene, è solo che l'Inter non si vuole trovare nell'estate prossima come si trovò nel secondo anno di Spalletti con un contratto rinnovato per due anni e avevi cambiato idea. Non perché, perché Inzaghi può andare cinque anni avanti, poi l'allenatore puzza dopo cinque anni. No, ma non è quello Paolo, è che tu alla fine dell'anno hai il coltello dalla parte del manico perché hai un allenatore che ha un anno di contratto. Come è successo alla Juve invece che aveva due. Puoi esonerarlo e prenderne un altro e perderci solo un anno di contratto. Puoi fare quello che vuoi. Però io questo, siccome hai meritato perché hai vinto, io ti devo ripagare un qualcosa, allora c'è questo bonus, dice tu, continui a vincere, bonus, grande bonus, due milioni per uno scudetto, secondo me è un super bonus. L'altro lato della medaglia che ci stai raccontando è che comunque, bravo, bene tutto, però io di un allenatore non mi fido mai. Vabbè, però, scusa Emanuele, il 15 aprile del 2023, Inzaghi era più dentro o più fuori? Era più fuori. E un anno dopo è il 2057. Posso dire che ha contifatti, un'altra, ha contifatti per il nome che era stato fatto in quell'aprile meglio che sia rimasto Inzaghi, perché era Roberto De Zerbi il nome dell'epoca. Ah, fino a io ricordo erano stati fatti i nomi più da stango, scambiato. Quello sondato, proprio quello con Cernian che va in sede, segreto e parla, era Roberto De Zerbi. Ma però, diciamo, ha meritato il nuovo contratto, Inzaghi l'ha meritato. Ha meritato di fare un altro anno tranquillo. Credo che verrà annunciato venerdì, venerdì Marotta presenterà la stagione, in più parlerà Inzaghi. Lui ha parlato, Marotta ha parlato più volte del fatto di essere continuo, nel rendere come squadra e non nel vincere la Supercoppa italiana. Cioè, lui ha capito benissimo che i due buchi degli anni prima dei due scudetti di Milano e Napoli sono un punto di debolezza dell'Inter e di Inzaghi di questo triennio. E quindi io la vedo più come dice lui. Cioè, secondo me mettere, io non l'ho mai visto mettere a un big, una clausola così alta, su uno scudetto vinto. Un bonus. Sì, bonus quello che vuoi. Comunque è una postilla. Vabbè, è un incentivo. Due milioni sono tanti, come dice lui. E i famosi contratti a rendimento, diciamo così. Sì, ma lo fai quando hai bisogno di pungolare uno. Però lui prendeva 5 e mezzo, passa 6 e mezzo. Cioè, ad Ancelotti non gli dicono se vinci la quindicesima ti do 5 milioni di euro in più. No, 5 no. No, per dire, non lo fanno sul risposto. No, no, capito. Però dico, comunque Inzaghi, quest'anno l'aumento già ce l'ha. No, ma che lui abbia fatto, che lui si è migliorato tantissimo in questi anni, sono il primo a dirlo. Eh, ma... Però ci sono dei buchi di due anni prima che non è che uno può scordarsi. Ma questo si dice... E un dirigente guarda quello. No, ma ho capito. Però gli stessi dirigenti che mettevano pressione quando non c'era il quarto posto il 15 aprile, oggi sono gli stessi che gli riconoscono questa crescita che tu stai dicendo. Sì. Perché una volta che tu hai fatto la crescita, la storia resta. Però resta pure che sei cresciuto. Adesso non è che uno regredisce. Però il problema è che lui pensa che uno che cresce così in fretta e così tanto in una squadra così importante non possa tralasciare delle cose durante l'anno. Nei primi due anni tralascia due scudetti. In quest'anno tralascia la Champions, la Coppa Italia... Il primo si può dire per il secondo. Secondo me è tutto diverso. È una storia molto... Perché è tutto diverso? Per me non ci sono scusati. Perché l'Inter non ha mai lottato per lo scudetto da settembre-ottobre. Di chi è la colpa? Di Spalletti? Ho capito. Però non è solo l'allenatore... Se Napoli fa uno scudetto... Scusami, però mi chiede. Se Napoli fa una cavalcata come quella dell'Inter di quest'anno, paradossalmente è molto simile la cosa, no? Cioè, stravinto, stravinto. Ma l'Inter è stata negativa in campionato l'anno scorso, siamo tutti d'accordo. Però dico, non è che è solo l'allenatore, ci sono altri componenti che hanno sbagliato. No, siamo d'accordo. Però allora non attacchiamoci la finale di cento. Perché non possiamo far passare una squadra che perde 14 partite... 12. 13. L'anno scorso l'anno scorso. 12 in campionato. 12 in campionato. Allora, ci facciamo una scommessa adesso in diretta. Io dico 14. 13, l'altro 12. Io non sono interesse. Per me è 12 e mezzo. Io mi ricordo 14. Però, detto questo, non possiamo far passare una squadra che vince, che arriva in finale di Europa di Champions League come la squadra che quest'anno ci riproverà perché è cresciuta, è diventata finalmente quella roba lì che ci si auspica da anni, eccetera, eccetera. E poi ti perdi i scuolti per strada in quel modo lì. Cioè, il concetto è che Marotta, comunque, secondo me, di Inzaghi, fino in fondo non si fida. Su questo ha ragione lui. E ti dico di più. Che Marotta, nella sua testa, secondo me, come gestore di una squadra ormai fatta, plasmata e creata, qualora l'anno prossimo le cose con Inzaghi andassero male, c'è sempre il solito nome che aveva avuto in testa anche tre anni fa. che era quello che non vi avrebbe fatto perdere due scudetti di Pia. E che questa volta è libero. Che si chiama Seminiano Allegri. Quindi, cioè voi dite... E che ha fatto due anni giocare col 3-5-2. Ma voi l'avete vista giocare l'Inter di Inzaghi? L'avete vista giocare l'Inter? Adesso non accostiamo a quello che abbiamo visto, invece. Non accostiamo? Non accostiamo. Non possiamo accostarli, infatti. Una ha vinto dieci volte tanto l'altra, quindi non può accostarli. Quello che abbiamo visto in questi tre anni, l'Inter stava prendendo Allegri, Marotta stava prendendo Allegri nel 2021. Certo. E non avresti perso due scudetti. Avresti visto una squadra che giocava peggio, ma non avresti perso due scudetti. Comunque sono 12 scudetti. No, secondo me arrivava quarto e diceva mi avete tolto Lukaku e Kimi, sono pure arrivato quarto. Di uno che ha vinto l'Italia con Milano e Juventus? Ho capito, ha vinto. Oggi l'allenatore che viene premiato a livello internazionale italiano. Ha vinto vent'anni fa, questo ha vinto fino all'anno scorso. Ma ti ho capito, ma ragazzi, ma oggi anche a livello internazionale. Ma chi è che vinceva la Coppa Italia come qua di quest'anno con l'Atalanta così, con un centrocampo di quel genere? Ma chi ha avuto quest'anno premi conosciuti a livello internazionale? Ti ricordi il centrocampo da Juve in finale? Che senza neanche Locatelli, per dirne un altro. Nicolussi, Nicolussi. Nicolussi contro l'Atalanta di quest'anno. Ma sto dicendo il centrocampo dell'Inter, Cialanoglu l'ha messo Inzaghi lì, Michi Italiano ha rivalutato Inzaghi con Allegri, con tutto il rispetto. No, ma infatti non c'è proprio paragone. Ma non c'è proprio, esatto. Oggi uno è sulla cresta dell'onda, l'altro è a spazzo. Ma come parlare di Quino, di un gruppo musicale che emerge nel solito in terra? Ma nessuno toglie il curriculum ad Allegri. Ma non lo puoi fare. Ma se tu oggi fai un sondaggio con qualsiasi tifoso, dice tu Inzaghi o Allegri, ma lei c'è stato il tifoso? Lui i sondaggi li fa con i tifosi dell'Inter. Quindi, ragazzi, lui i sondaggi non li fa con i tifosi... Elena, ma Inzaghi meglio di Allegri in questo momento per chi vuole costruire una squadra? Infatti, non scherziamo. Ma non scherziamo. Francesco, non ti sento. Ok, allora adesso ti faccio richiamare, così sistemiamo il collegamento. Abbi pazienza solo un secondo, poi ovviamente torno da te. Io dico Allegri comunque. Tu dici Allegri. Io dico Allegri tutta la vita. Sei rimasto solo, Michele. Sì, lo ripeto. Sei rimasto solo, chiedete a Guardiola, chiedete alla FIFA, chiedete ai premi UEFA. Se chiedi a Guardiola, ti dice chiunque sa di poter battere. Chiedete alla panchina d'oro, chiedete ai colleghi della Serie A. Ma Inzaghi ne ha preso 15 panchina d'oro, Michele. Ma stiamo parlando di oggi, non di chi ha fatto un culo di amato lastro. Ma Inzaghi ha vinto uno scudetto adesso. Chi? Qui Inzaghi ha vinto uno scudetto adesso. E appunto. E quindi? E quindi adoro. L'ultimo che aveva 26 e ha fatto due finali di Champions e ha fatto quattro double di fila. Ma l'ultimo è del 2019. E che lo voleva avere a Madrid. Scusami, ma Real voleva Inzaghi o Allegri? Ma il decennio scorso che ha vinto. Tre anni fa, chi ne ha chiamato? Ma anche Marotta ha chiamato Allegri. Marotta ha chiamato Allegri? Sì, lo so, te l'ho detto prima. Ma ti sto dicendo, in Real Madrid ha preso la chiamata Inzaghi o Allegri? Ma Allegri, Allegri. Come fai a dire che non si può paragonare? È proprio il contrario. Ma la vedete giocare l'Inter a pallone o no? No, a calcio. Ma la qualità dell'Inter la vedi o no? Ma la qualità l'ha creata Inzaghi. Ma la Juve di... Scusami, Pereira, Vidal, Pogba, Marchisio, Pirlo. Quello era Allegri o era la qualità? Tu vedi... Quello era Allegri o era la qualità? Rispondi. Va bene, va bene tutto Allegri. No, l'allenatore non si vede. No, scontami. Ma sto dicendo va bene, però dico, voi non volete affrontare l'argomento di questa Inter. Cioè, secondo me Inzaghi faccia giocare con i Kuzmanovic, Schelotto e gli altri? Vedete l'Europeo e non vi ritrovate i conti perché gli stessi giocatori dell'Inter L'anno scorso sei arrivato dietro la Juve di Allegri. Te lo ricordi? Ma chi? Dove? Tu. Ma chi? L'anno scorso sei arrivato quarto, quarto per differenza a Redis. Continuamente hai arrivato quarto. La Juve davanti. Con l'Inter... Disastrata. Eh, perché l'Inter non ha avuto mille problemi ma ha fatto la finale di Champions. Appunto, per merito di chi? De Sordesi. Ha messo Shalanoglu, regista, Miki Italian che era stato buttato via. 14 partite perse in Serie A con gli stessi giocatori. Sono 12. Sono 12. Ok, 12? Sono le stesse della stessa roba? Ma scusa, ma... Il Mendes si era perso 12 finali, 12 partite in Premier. Ma perché tu non hai preso Miki Italian? Perché non hai preso Acerbi? Perché non hai preso Darmian? Quello è perché abbiamo dirigenti, ha avuto dirigenti perterrani che non erano all'altezza, è un'altra cosa. Ma ho capito, ma non è che ha fatto spendere soldi. Quella è Marotta, che bravissimo. Non è vero, Acerbi l'ha voluto Inzaghi. Elena, come ti metti su questo dibattito molto infuocato? Sei inzaghiana o allegriana, da questo punto di vista? Veramente, non scherziamo. Siamo d'accordo, non scherziamo. Allora, io devo dire che Inzaghi, secondo me, è migliorato tantissimo negli ultimi due anni, perché ha imparato dai suoi errori. Secondo me, nel primo anno di Inter ha sbagliato un po' di cambi e ha sbagliato la partita col Bologna, dove ha regalato lo scudetto al Milan. Però, secondo me, quest'anno si è vista proprio la sua crescita professionale, dove non ha sbagliato un colpo nei cambi dei giocatori durante le partite. Poi, è vero che probabilmente è una rosa migliore rispetto a due anni fa. E lì, tanti complimenti a Marotta, che prima, guarda caso, era nella Juventus Marotta. Non ha risposto. Tu sei un dirigente di una squadra X, devi affidare la panchina della tua squadra e chi chiami? Sono tutte e due liberi sul mercato. Adesso, eh? Prego Inzaghi. Inzaghi, ok, ok, ok. Quindi, ti schiedi dalla parte di Michele Borrelli. Sai chi sceglie Inzaghi? Chi vive il calcio con la calcolatrice in mano. A cui può essere? Chi vede lo spettacolo in campo. Ragazzi, due minuti, lì la regia. Tema Inzaghi-Allegri è bellissimo. Abbiamo scatterato un po' di fiammi. Noi abbiamo scelto qui in studio Allegri. Ma noi, noi tu. Ci sono delle opere classiche nel cuore di noi juventini questi anni che Michele si è giustamente scordato perché non possono essere mai paragonate a quello che sta dicendo lui. Vabbè, detto questo, adesso però la Juve ha... Facciamo il sondaggio con chi ci segue da casa. Facciamo il sondaggio. Se tu dai ad Allegri Inzaghi lo stesso materiale e tu devi scegliere un allenatore fra i due che ti dia la percentuale di vincere alla fine più alta, chi scegliete? Io scelgo Allegri tutta la vita. Va bene. Detto questo, la Juventus ha voltato pagina e si è affidata a Tiago Motta che si è preso la Juventus. Diciamo, sta iniziando insomma a lavorare. Calma, calma. Ecco, basta un Tiago Motta qualsiasi per essere preferito ad Allegri. Non serve Inzaghi che ha vinto, serve un Tiago Motta che è un promettente. Parla per te. Ho appena detto calma, calma. No, no, ma dico l'anno sisto. Io sono di quelli che pensano che rimpiangeremo Allegri. Alla Juventus l'anno sisto. Anch'io. Addirittura. Contiene insiste, tu dici, io stavo proprio dicendo il contrario e hai parecchio forte. Io non dico tu, io dico la Juve. La Juve. Ho capito, ma se la Juve in questo periodo è una rivoluzione grossa, importante, ma molto, molto, molto rischiosa. Molto. Però, se come dice il nostro titolo la Juventus dovesse chiudere dopo aver fatto Douglas Lewis, Douglas Lewis, dopo aver fatto Kefren Turam che oggi è arrivato per le visite mediche. Sì, Di Gregorio. Di Gregorio. Di Gregorio in porta. Combiners, Todiboh, insomma, ragazzi, nasce una Juve riveduta e corretta in maniera pesantissima rispetto all'anno scorso. Nasce una Juve e qui sono d'accordo con Francesco se ho capito bene gli umori da questo punto di vista. Tutta è sperimentale perché bisogna trovare una coesione, un'amalgama fra giocatori diversi e quindi inevitabilmente sarà una Juventus che è un punto interrogativo almeno all'inizio fino a quando non si ritrovano certi sistemi. Lo stesso Tiago Motta nel Bologna ha fatto bene in una seconda fase soprattutto, non da inizio. Quindi è un interrogativo molto grosso. io auguro a Francesco di non rimpiangere Allegri che rimane comunque il migliore allenatore italiano che c'è stato in Italia. No, ma sai perché? Dopo Conte. Sai perché lo dico? Dopo Conte. Conte è allenatore e l'altro è gestore. Non c'era l'anno scorso Conte. Ma scusami, tu dici temo di rimpiangere Allegri perché? Perché sono state fatte delle cose in modo secondo me non da Juventus. Elkan ha voluto che tutta la vecchia guardia di Agnelli Andrea del periodo di dieci anni di trofei consecutivi sia fatto fuori piano piano. Ne stanno uscendo adesso gli ultimi uomini piano piano. Ci sono anche voci di mercato su Rugani di oggi che potrebbe essere per esempio interessato a anzi potrebbe essere l'Atalanta interessata a prenderlo in pedina di scambio con Cobbainer che è molto più vicino a Juventus Atalanta, Ajax e Al-Shabaab. Esatto. Io tra l'altro ho anche parlato con chi è vicinissimo a lui e al momento sono loro i primi a non capirci nulla quindi questo mi fa capire che... A lui Rugani. Sì. E quindi questo fa capire che evidentemente c'è un po' di confusione sembra quasi che la Juve in questo momento stia rinnovando a prescindere per poi fare piazza pulita comunque e tu devi stare attento a cosa butti poi fuori dal sistema dal canderone perché è una squadra che comunque qualche risultato soprattutto nell'ultimo periodo l'ha portato non tanto dal punto di vista di gioco ma di temperamento di coesione di gruppo perché la Juve di quest'anno fino a febbraio l'ha lottato per lo scudetto ha vinto una Coppa Italia con l'Atalanta che era più forte di lei per me sotto tutti i punti di vista tranne che difensivamente parlando e... L'ha vinta Allegri l'ha vinta Allegri e nel finale di partita a quella sceneggiata storica non tanto verso Rocchi e la tribuna ma aggiuntoli dopo poi seguono delle verità che vengono a galla prima o poi e quando viene a scoprire senza... non farò mai il nome di una persona che mi ha detto questa cosa ma sono... è più di una sono due e... che hanno a che fare con la Juve e... quando viene a scoprire che a una cena Allegri tramite un vecchio amico di cui era dipendente gli racconta che... fammi pensare chi poteva essere... Cellino gli racconta che il procuratore... presidente dell'Aglianese il procuratore... di che squadra scusa? l'Aglianese eh sì esatto dove c'era Allegri tra l'altro il suo direttore sportivo sta facendo fuori lui per prendere Tiago Motta e trattando già Di Gregorio all'epoca ti fa capire che questo non è un atteggiamento chiaro perché ai giocatori allenatori per me devi comunque parlare sempre in faccia hai detto Di Gregorio Monza ok sì ti sei un po' ho detto Di Gregorio l'altro nome non l'ho fatto quindi lo stai facendo voi potrebbe essere chiunque visto che sono amici Gagliani e Allegri prendiamoci chiaro ok l'abbiamo detto qualcuno gliel'ha detto che stava succedendo questo e lo sfogo finale è figlio anche di quattro mesi di questo calibro cosa succede a febbraio la squadra crolla la squadra crolla emotivamente perché forse percepisce anche questo allenatore il mercato che gli viene chiesto di fare al direttore sportivo viene fatto al contrario perché le voci raccontano che qualora poi Allegri facesse risultati ancora sarebbe stato più difficile mandarlo via quindi questo mi fa capire che abbiamo a che fare con una situazione politica cioè la Juve è diventata una situazione politica in questo momento ognuno cerca di salvare il proprio posto per mettere nella poltrona che vuole lui il personaggio più comodo a lui o magari non per forza dal punto di vista caratteriale ma per investimento economico per idee diverse e che parliamo di Tiago Motta che parliamo poi all'arrivo di ieri si stanno prendendo una bella patata bollente in questa situazione perché Douglas Lewis è sicuramente un giocatore che ha fatto benissimo in Premier League e questo lo sappiamo e va bene però in Serie A poi è un'altra cosa che Fran Turam è il fratello di Turam di cui ci parlano molto bene dal Nizza da Francia eccetera ma che ancora in Italia non ha mai messo piede in Serie A un'altra cosa perché è più semplice scusami Coopmeiner potrebbe essere la ciliegina sulla torta in centro campo sicuramente con molta più qualità di quello precedente ma tu staresti comunque perdendo dei personaggi ad oggi come Rabiot Cesni forse Chiesa non sai in mezzo al campo i vari meccenni che l'anno scorso hanno fatto benissimo a sorpresa che fine faranno non si sa cosa farai con gli esterni perché pare che vengano messi tutti sul mercato perché Costi ce lo rientra nei piani UEA non si capisce cosa farà forse passerà addirittura a fare il terzino quindi dall'attacco si va a centro campo buono scorso addirittura dietro cioè Calafiori lo hai perso Calafiori lo hai perso perché non lo puoi pagare così tanto se ti sono d'accordo è come il gioco del Milan con Zirze però addirittura esagerato perché un conto è 30 un conto è 50 lì non ci arrivi e quindi ripeto è un grosso cambiamento che la Juve non ha mai fatto nella storia la Juve degli Agnelli centenaria soprattutto dell'avvocato cambiava una pedina alla volta il Milan di Berlusconi arriva a stravincere comprando 12 giocatori in una stagione sola e presentandovi con l'elicottero non siamo non vince quell'anno e soprattutto la caratura di questi che stai comprando non sono da presentare quelli di qua al momento poi magari io mi sbaglio sicuro la qualità del centro campo è stata innalzata e con Covbeiner diventerebbe qualcosa di molto serio però ripeto attenzione che la Juventus è una cosa particolare chi non vive il DNA juventino da dentro e da fuori e che lo trassuda non capisce cosa vuol dire lavorare per questa società ed è per questo secondo me che giustamente giustamente riaccoglieranno Chiellini tra luglio e agosto in società se posso aggiungere una cosa è una riflessione su quanto ho detto da Fra a me la cosa che colpisce di più in questo ragionamento è che tu a febbraio pur di cacciare Allegri a fine anno hai perso il campionato hai scelto ti sei giocato di non giocare il campionato hai scelto scientemente di lasciare l'Inter e vincere lo scoletto perché in quel momento no di non giocartelo più no esatto di non giocartelo più perché l'Inter è più forte in quel momento hai scelto di non competere e la richiesta di Allegri probabilmente era meglio che Alcarazzo e Tiago Giallò un momento hai scelto di non competere pur di eliminare quindi hai lasciato nelle mani dell'Inter lo scoletto magari non c'era partita però non hai neanche lottato non c'era neanche per lui però in quel momento c'era l'abridio per stare di dietro lo perdevi la settimana dopo all'ultima giornata ma ci provavi però c'era e tu hai scelto di non competere di non lottare fa gioia da inizio stagione come fa un direttore sportivo che arriva a non capire l'ha capito benissimo Giuntoli perché è molto più astuto di tutti noi anche perché lui è rimasto e le gare è dato via sì anche perché poi si viene a sapere tramite altre telefonate che giungono anche ospiti nostri eccetera eccetera che Pradè parlò con uno dei nostri che sta qua in studio senza fare un'altra volta se vuole lo dirà lui e gli racconta che per buonaventura il signor Giuntoli si presenta a tre giorni alla fine del mercato e questi gli rispondono sì e noi diamo buonaventura per cosa buonaventura punti i piedi perché sta della Juve vuole andarci crea malumore anche nello spogliato della Fiorentina per poi portare un Alcaraz che non è altro che un fallimento totale però scusate una domanda John Elkan ha indicato in Giuntoli l'uomo a cui fare riferimento per l'area tecnica quest'uomo al secondo anno può iniziare a mettere mano ci avrebbe dovuto rimandare ancora cioè è normale che quando cambiano anche di uno bravo anche uno che vince c'era l'anno scorso c'era anche l'anno scorso però si è ritrovato un progetto ed era a metà perché Allegri era il secondo anno su quattro anni di contratto però prendere perere la buonaventura in presto non è che voleva venderti la vita ho capito però se lui vuole un altro tipo di impostazione un altro tipo di calcio potrà voltare pagina un anno dalla scadenza perché non lo dici e lo fa l'ha fatto vedere perché non lo dici in tv per mesi perché a ogni intervista tu dici parleremo a fine mese con Allegri tutto d'accordo tutto bene va benissimo siamo contenti il nostro allenatore ma sì le bugie l'hanno sempre detto i dirigenti pensa se per sbaglio però Allegri non va in centro fatemi sentire anche Elena anche tu da Juventina hai il timore un po' come dice Francesco di rimpiangere Massimiliano Allegri o sei soddisfatta convinta della scelta su Tiago Motta allora io sono soddisfatta degli acquisti che sta facendo Giuntoli che sicuramente sono mancati al mercato dell'anno scorso e alla squadra che ha avuto Allegri volutamente il mio pensiero è questo fino all'ultimo ho difeso Allegri perché bisogna sempre difendere l'allenatore che è presente in quel momento che è tesserato per la squadra che si tiffa dal momento in cui Tiago Motta ha sottoscritto il contratto con la Juventus difenderò lui fino all'ultimo perché è giusto che avere fiducia nei tesserati della Juventus No ma Ele scusami posso interromperti un attimo io sono d'accordissimo con questo tuo ragionamento per carità anche perché se no vorrebbe dire andare contro io non ti farò mai conto perché c'è Tiago Motta non è questo il punto il punto è che sto vedendo delle cose non da Juventus questa non mi rispecchia come storia la Juve non è questa roba qua però il centrocampo che sta facendo Giuntoli è sicuramente migliore rispetto a quello che aveva Allegri in mano l'anno scorso senz'altro senz'altro però se tu perdi o perdessi Rabiot e McKennie sei sicura che poi questo Douglas Lewis e che Fran Turam saranno meglio di Rabiot eventualmente o di McKennie bisogna dargli tempo secondo me bisogna dargli tempo perché sono due stranieri che non conoscono come dicevi tu il nostro campionato certo e quindi non è detto che già dal primo è una scommessa è una scommessa è una scommessa però di inserirsi tipo Marcus Turam si è inserito benissimo nell'Inter probabilmente anche per il suo passato che ha vissuto a Torino da bambino però era una squadra che girava già bene appunto hai toccato hai centrato secondo me il punto però adesso faccio fatica visto il blocco precedente a porre il problema cioè giocherà in un modo diverso c'è un allenatore che ha dei principi di gioco che abbiamo visto riconoscibili dice però erano Ferguson Zizze Calafiori no l'ha messo lui Calafiori lì l'ha messo lui se lo fai nessuno ti viene a prendere per il colpino d'accordissimo però ha toccato delle vette incredibili Champions League col Bologna secondo me adesso tu andrai allo stadio e quest'anno ti inizierai a divertire va bene ma quando è vero perché siamo qua però anche in tv quando farai la telecronica inizierai di nuovo a riassaporare il gusto di vincere divertendoti mi chiede è da quando sono nato che vinco senza divertirmi non me ne frega una mazza ma non è vero la Juve di Conte e la Juve di Lippi giocavano bene giocavano bene rispetto al Milan di Sacchi era un'altra cosa magari la Juve di Cappello o meno la Juve di Allegri diciamo alcuni periodi ma la Juve di Conte e la Juve di Lippi facevano un bel caso perché la Juve di Travattoni c'è il Barcellona di Guardiola c'è il Milan di Sacchi la Juventus di Lippi è una via di mezzo tra quella poi con Capce sono squadre affamate fatte di giocatori tanto di uno zocco lo duro italiano poi di qualità di grande qualità che è diversa da quella di oggi però c'erano i torriciali di mezzo che facevano i falegnami c'erano i padovano che arrivavano dalla Leggiana c'erano i del Piero 18 anni però senza dire meglio e peggio si può dire che Tiago Motta fa parte di una diciamo schiera di nuovi allenatori che imposta le squadre diversamente da come la imposterebbe Allegri ma l'abbiamo già visto con Pirlo che è successo però però Pirlo non era Tiago Motta perché è stato subito catapultato è arrivato quarto un anno è arrivato Pirlo all'ultima giornata perché il Napoli col Verona gli ha regalato la qualifica però non puoi paragonare Tiago Motta a Pirlo Pirlo ha fatto un anno all'improvviso Juve non aveva mai allenato scusami ad oggi Pirlo ha vinto Tiago Motta no prima risposta ma come ha detto Gasperini vincere raggiungere gli obiettivi Tiago Motta ha vinto con lo Spezia ha vinto col Bologna ha stravinto col Bologna ma il primo anno con lo Spezia con lo Spezia salvarsi andare in Champions col Bologna con lo Spezia con lo Spezia era già stato esonerato con lo Spezia con lo Spezia era già stato esonerato poi vince a Napoli e cambia tutto per caso per caso l'avevano già cacciato non passi il concetto che io dico che Tiago Motta non sia un buon allenatore è un ottimo allenatore ma è un prospetto rischioso insieme a un mercato del genere ma perché rischioso tutto da valutare io credo che sia arrivato al momento giusto perché meritava una panchina top per quello che ha fatto vedere prima ha lottato per la salvezza anzi prima ha partito con i giovani nel Parigi San Germano però se non lo dire ha fatto di più Tiago Motta scusa ha fatto di più Tiago Motta raggiungendo il quarto posto con Bologna o ha fatto di più Baroni che ha salvato il Verona anche Baroni anche Baroni ha fatto benissimo o Nicola o Nicola o Nicola quarta quinta salvezza di fila hanno fatto tutti bene doveva scegliere uno ha scelto Tiago Motta che secondo me è uno dei migliori che poteva scegliere senz'altro dei giovani se non il migliore delle nuove proposte come dicevano a Sanremo una volta è sicuramente uno dei migliori andandosi a confrontare magari con Allegri è un ex giocatore di grande personalità quindi sa cosa vuol dire vincere senza saldo non faccio una domanda chi non salta interista va bene perché tanto lascia perdere io quello va benissimo però vi dico parliamo di robe ma Francesco ti posso chiedere una cosa quando Giuntoli va a lavorare con Motta perché è un direttore a Napoli uno che lavora a fianco all'allenatore se quando ha lavorato a fianco a Allegri avesse se fosse stato conquistato anche se arrivava terzo o quarto ma era conquistato dal modo di proporre dal progetto da quello che poteva intuire potesse essere la Juve del futuro secondo te lui era fissato che lo doveva mandar via ma perché non ci ha neanche provato Michele ma non è vero ascolta ma che campagna qui si gli ha fatto se tu dici che gli avesse ma che campagna qui se gli avesse dato una possibilità non chiudeva all'estate con UEA e a gennaio con Gianluca ma tu ti ricordi la situazione qual era io mi ricordo che Douglas Lewis l'hanno preso prima del 30 giugno quindi nell'anno solare in cui poteva far mercato boh basta due minuti ragazzi e poi a proposito di Juventus parliamo delle possibili uscite perché ci sono un paio di situazioni da analizzare con attenzione Rabiot e Chiesa tra poco